Chiara Nasti si difende da chi l'accusa di il figlio come un bambolotto, la risposta peccata. Chiara Nasti è sicuramente una delle influencer più discusse del web. Ogni suo atteggiamento, ogni suo gesto, così come ogni suo post, viene costantemente preso di mira dai soliti leoni da tastiera. Tutto quello che riguarda la sua vita finisce sempre sotto la lente di ingrandimento. Su tutti il clamoroso gender reveal realizzato affittando l'intero stadio olimpico. Casa del suo compagno, il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Come dimenticare poi le battute sul gamberetto del suo ex Nicolò Zaniolo, o sulle donne che svaccano in gravidanza. Nemmeno la nascita del piccolo Tiago la rese immune alle critiche. Di recente. L'influencer è stata accusata di essere una mamma a metà perché è i domestici in casa. Nelle ultime ore invece gli haters hanno sprecato il loro tempo libero commentando le foto del suo bambino. Secondo i detrattori, Chiara Nasti userebbe il figlio come un bambolotto. La peccata reazione della WAG non si è fatta attendere. Ma la quantità di commenti stupidi sotto le mie foto? Gente che mi ricorda che mio figlio non è un bambolotto. Ma di che tipo di malattia soffrono davvero fermatevi. Le persone sane di mente quando si mettono la leggere e vi scambiano per idioti. Fate davvero una gran brutta figura. Siete persone con voglia di migliorarsi e non dannarsi quando non c'è davvero alcun bisogno. Attaccate l'inattaccabile.